Puoi modificare i dati di contatto indicati al momento della registrazione del tuo account Aruba in qualsiasi momento attraverso l'area clienti. Collegati a managehosting.aruba.it e inserisci il tuo username chiocciolaruba.it e la password. Quindi premi su accedi. Una volta dentro il pannello, clicca il menu utente in alto a destra e seleziona la voce I tuoi dati. Alcuni campi non sono editabili. Non puoi modificare nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, a meno che non ci sia un errore. In quel caso occorre seguire la procedura di modifica dati anagrafici per errori inserimento. Non puoi modificare tali dati perché sono quelli che ti identificano come cliente. Se ti occorrono informazioni sul cambio di proprietà, questo video non fa al caso tuo. Se invece sei interessato alla modifica dei dati di contatto, digita i nuovi dati e premi Salva. Puoi modificare i dati di residenza, tranne la nazione, ed i contatti. In caso di modifica dell'indirizzo e-mail o del numero di cellulare, per tua maggiore sicurezza Aruba ti invia una e-mail di avviso che consente di confermare la modifica dei dati oppure disconoscere la variazione ripristinando i precedenti. Se all'account è legata anche una casella PEC, i recapiti saranno aggiornati anche in quella anagrafica. Ricordati di validarli. Se hai bisogno di aiuto, consulta la videoguida dedicata dal nome Come verificare o modificare i dati di riferimento non validati di una casella PEC.